Su quanto è accaduto in questi giorni a Vittorio, ossia il terremoto giudiziario che ha portato all'arresto di sei persone, interviene il neocommissiario di Forza Italia Marco Greco. Quanto è accaduto a Vittorio non ha precedenti, rileva Greco, e ci ha lasciati attoniti e basiti. In questo momento non è facile rimanere sereni, ma l'obbligo per tutti è quello della moderazione ai giudizi, evitando così polemiche sterili che sarebbero dannose per la città. La giurista ricorda a me stesso, prima che agli altri, che essere indagati in un processo non equivale ad essere già stati giudicati colpevoli, anzi nel nostro sistema giudiziario è l'opposto contrario per il principio della presunzione di innocenza. Per Greco ci sarà adesso un procedimento giudiziario che non sarà breve, dice, ma Vittorio non può permettersi di rimanere a lungo in uno stato di torpore. Allo stesso tempo bisogna scongiurare un intervento dello Stato nella persona di un commissario che limiterebbe la nostra sovranità popolare e la nostra necessità di governarci secondo le peculiarità che solo noi vittoresi conosciamo. Per tutti questi motivi quindi il mio commissario cittadino di Forza Italia Vittorio invita tutte le forze politiche e non alla moderazione e alla pacatezza dei toni.